Hai fatto sanguinare Lemon, e Lemon non sanguinava mai. Oh mio Dio, signore, non prego, mi aiuti! Ladybug! Stolta, sono in merda! Che fai, testa di cazzo! Cosa? Diesel! Cosa? Cosa di cazzo! Tu sei un diesel? Ma che cazzo? Che cazzo? Diceva che ti avrebbe ucciso, dandoti la colpa di tutto. E diceva anche che un uomo ci aspetta alla stazione di Kyoto. Uno che mi avrebbe fatto del male. Questo non succederà. Sta tranquilla. Scenderemo dal treno. Alla prossima fermata siamo salvi. Dai, scendiamo. Ragazzina, muoviti! Non posso, mi si è incastrato lo zaino! Cosa? Lascia, andiamo! No! Dobbiamo andare, dai! No, non posso! Scendi subito, signorina! No! È l'ultima possibilità! No, no, ti prego, vieni qui! Dai, per favore! Ho paura, non voglio restare sola! Ti sopplico! L'ho presa. Non è colpa tua, ragazzina. È la mia sfortuna, non la tua. Tu hai tutta la vita davanti. Assicurati di fare qualcosa che ti porti pace, perché tutto il resto è rottura di palle. E se incontri uno di nome Carver, è un coglione. E digli pure che te l'ho detto io. Io, io, ho preso questa, non volevo lasciarla. Ce l'aveva quell'uomo e magari tu potresti usarla per uccidere la persona che ci aspetta all'arrivo. Non gli permetterai che mi faccia del male. Sei sincero. Sì, sincero. E su me lo noto. Sul serio? Va bene. Ok, amico. Mi metti i brividi. Quindi, se non ti dispiace, potresti trovarti un posto molto, molto, molto più giù. E in questo modo... Non dovrò dirtelo due volte? No. Non lo farai. Dai, spostiamoci. Ti porto la borsa. Era un serpente.